Buonasera a tutti e benvenuti. Partiamo da un dato certo. L'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Bologna in merito al cosiddetto branco di Rimini. Sapete benissimo a che cosa mi sto riferendo. Stupri, violenza sessuale, lesioni, coppia di giovani polacchi e un transessuale, se non sbaglio, di origine peruviana. Ora l'ordinanza è durissima nel senso che si parla di elevatissimo spessore criminale di particolare ferocia e questi minorenni, che sono tre più un maggiorenne, rimangono comunque in questo momento fermi in un carcere. Si parla altresì di brutalità, di inutile cattiveria, di inutili sofferenze alle vittime, di allarme sociale di proporzioni rare e di personalità gravemente inconsistente di questi minorenni incapaci di rendersi conto dell'estrema gravità delle condotte realizzate e quindi esposti altamente al rischio di commettere dei nuovi reati. Questa è un'ordinanza e quindi è un atto ufficiale della giustizia italiana, ne teniamo assolutamente conto e è il primo elemento concreto a fronte di un'indagine e di una cattura di queste persone, per alcuni, bestie per altri, branco per la maggior parte delle persone che magari ha avuto modo di leggere sui giornali o di assistere in televisione ai particolari di questa vicenda assolutamente violenta e incredibile e la giustizia italiana farà il proprio corso. Potremmo fermarci qui anche perché altro non ci sarebbe da dire, se non che in Italia parleremo come sempre di mille giustizie diverse. La giustizia che vi ho appena citato, agli albori di un'indagine ovviamente tutta da verificare con responsabili e con responsabilità, è poi la giustizia che verrà data dallo Stato di fronte ad un reato previsto e punito dal codice penale, quindi con delle pene, con delle sanzioni, che tutti ovviamente coloro che rispettano un codice penale, una giustizia in Italia, si augureranno siano sanzioni concrete, effettive, efficaci sino al termine della loro durata. Poi però ecco, ribadisco le giustizie o la giustizia a tanti profili, vi è una giustizia che potrebbe essere quella che richiede la vittima, la ragazza polacca che è stata brutalmente violentata da più persone, il suo fidanzato che ha assistito alla scena e che è stato a sua volta picchiato brutalmente o il transessuale peruviano che è stato violentato ripetutamente. Che tipo di giustizia chiederebbero queste persone? O i loro genitori, o i loro fratelli, o le loro sorelle, o la cerchia dei loro amici? Si accontenterebbero di questo tipo di giustizia, ovvero di quella che è la giustizia concreta, reale che il nostro Stato, la risposta che il nostro Stato può dare? Oppure gradirebbero un altro tipo di giustizia? Ed ancora la gente che ha assistito a tutto questo, che ha assistito a quello che è stato veramente sciorinato in tutte le lingue, in tutte le salse, in tutte le sfumature sui giornali, è d'accordo sull'applicazione della nostra giustizia, ne preferirebbe un'altra, migliore, peggiore a seconda poi di quello che noi chiediamo, parliamo di un inasprimento delle pene, di pene diverse, più dure, meno dure. Ed ancora gli stessi indagati che sono adesso tutti da verificare per quella che è la loro responsabilità, la loro attendibilità, pare che adesso si accusino, i minorenni accusino il maggiorenne, il maggiorenne accusi i minorenni. Anche questo con tutta una valutazione da fare, tenendo conto che siamo di fronte ad un Tribunale dei minori, dove ovviamente, normalmente, naturalmente, logicamente il fine di un Tribunale in generale, ma anche quello comunque dei minori in particolare, è quello di valutare attentamente i profili di responsabilità, la capacità a delinquere, un giudizio prognostico favorevole per il futuro affinché queste persone magari si asterranno dal commettere nuovi reati o abbiano compreso appieno la brutalità delle loro azioni, perché il Tribunale dei minori si occupa appunto di ragazzi minorenni e quindi con una valutazione soggettiva particolare tutta da verificare. La certezza della pena, ne ho parlato, ecco, il nostro Stato dovrà dare una risposta a tutte queste giustizie e a tutte queste sfumature. Non entro nella questione ovviamente razziale, religiosa o d'altro, perché poi ci possono essere anche sfumature di questo genere, legate allora agli extracomunitari, ai rifugiati, ai permessi di soggiorno e a tutto il resto. Cerco di rimanere ancorato a quella che è la giustizia. L'unica che noi possiamo e dobbiamo aspettarci è quella del nostro Stato, è quella dei nostri codici, è quella delle nostre leggi. Anche se, tra virgolette, qualcuno di noi italiani, non si sa bene per quale motivo, però in un certo senso ha quasi sorriso affascinato dalla richiesta di estradizione che la Polonia avrebbe o farà, magari una notizia prettamente giornalistica, all'Italia per punire lei stessa i responsabili di questi reati compiuti nei confronti di cittadini polacchi. Quasi a dire, ecco, adesso andrete in Polonia, poi ci penseranno loro perché magari sono migliori di noi, fanno le cose in un altro modo e vi faranno poi veramente pagare tutto quello che avete fatto. Tante giustizie, tanti modi di valutare questo fatto tremendo, il primo passo però è stato compiuto dalla nostra giustizia italiana ed è questa giustizia quella che dovrà essere poi il punto di riferimento per farci comprendere che fine faranno tutti questi protagonisti di questo branco di Rimini. Grazie.